buongiorno ragazze buon martedì come state tutto bene io sempre con la mia faccia sconvolta mi sono appena alzata adesso mi metto e faccio colazione questa mattina stamattina assolutamente quello che una casalinga deve fare è non trascurare mai questo ho tutto il bucato da stirare e oggi mi sa che mi dedicherò proprio a lui pulizie non ne farò oggi perché ho un cesto pieno da roba da smaltire da stirare e stiremo insieme così mi fate compagnia preparerò il pranzo oggi farò un semplice risotto penso se ho il pesce adesso vediamo insieme così adesso mi paro pure la colazione perché ci sono famigli non ci vedo vediamo cosa potete fare mi sa che oggi faccio questo qui lo faccio con risotto così già anche se stiro ho il pranzo assicurato faccio un po' di riso e poi qualcosina per secondo adesso vi giro la fotocamera e facciamo colazione con riso e poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti